Sono nove anni che Subiano, per promuovere il proprio territorio, propone nel periodo attunnale la mostra del Bosco e del Sottobosco. Il nostro territorio si presta ad essere promosso e valorizzato e io ci tengo tantissimo perché qui, secondo me, si vive in una zona più bella della Toscana. La Toscana è una delle zone più belle d'Italia e l'Italia è una delle zone più belle del mondo, perciò con questo penso di aver detto già abbastanza. Ospite d'eccezione all'edizione 2015, Augusto Tocci con il suo nuovo libro, Vita da gnomi, nutrimento del corpo e dello spirito. Se qualcuno in questi ultimi 4-5 anni ha avuto l'occasione di accendere la televisione, avrà visto dalla Clerici lo gnomo dei boschi, che poi sarei io. Questo nomignolo, che a qualcuno non è piaciuto, a me è piaciuto in un modo eccezionale perché così facendo l'Antonella mi ha dato veramente il via per essere riconosciuto un po' dappertutto. E allora io ho voluto fare, riportare tutta la mia vita di questi 4 anni alla prova del cuoco, con tutte le mie proposte gastronomiche, con una presentazione particolare di Antonella Clerici e poi all'ultimo anche di Enzo Ghinazzi, in arte pupo, che volere o non volere è sempre un nostro gratitissimo paesano. E con 102, estratta dal libro, una ricetta che è andata in degustazione a tutti, il caffè di ghiande minute. Buono, è buono, buono caffè buono, si sente il sapore, non di ghiande, il sapore buono di caffè di fatto, la tostatura si sente molto e lascia un buon sapore in bocca sicuramente. Grazie a tutti.